ciao bambini come state io sto bene grazie oggi impareremo le parole della pasqua siete pronti via ecco il coniglietto il coniglietto corre questo coniglietto è davvero contento il coniglietto è azzurro nero rosa e bianco ti piace il coniglietto ecco un coniglietto marrone il coniglietto porta le uova di pasqua contiamole insieme 1 2 3 4 5 6 uova pasquali e ora diciamo i colori azzurro verde giallo blu arancione e rosso decoriamo il cappello di pasqua vi piace il cappello che bello ecco altri cappelli questo cappello è bellissimo a pasqua mangiamo le uova di cioccolato sono buonissime e dentro le uova ci sono bellissime sorprese ecco alcune uova che hanno disegnato i bambini delle nostre classi prepariamo per le nostre famiglie per i nostri amici i biglietti di pasqua buona pasqua un altro biglietto di buona pasqua questo biglietto è molto simpatico buona pasqua ecco un biglietto moderno e molto particolare buona pasqua apriamo il biglietto leggiamo cara famiglia auguri di buona pasqua questo bambino ha fatto un bellissimo disegno l'agnello la farfalla uccellino il biglietto e un fiorellino bravo questo è l'agnello l'agnello è il simbolo della pasqua la colomba è il simbolo della pace la colomba è bianca ecco il pulcino il pulcino è zallo buona pasqua bambini ciao arrivederci Grazie a tutti.